Il primo weekend di ritiro della Fiorentina porta a Moena più tifosi rispetto all'arresto della settimana. C'è chi espone goliardicamente le proprie ragioni, chi invece continua a lavorare all'interno della sala stampa e chi è venuto per semplice curiosità. Siamo un po' appassionati di calcio e ci interessano a vedere la Fiorentina come si muovono. Sono un po' simpatizzati di due squadre, più interisti perché ho amici che sono interisti e loro per non simpatizzo un po' per l'interno. La vera passione è il ciclismo. Sono uno che seguo le partite, che mi piace vedere chi gioca bene, chi gioca male. Sì, perché c'è il nipote che è attaccato alla rete da un'ora, che aspetta per vedere il giocatore. Quanti siete? Noi tre, tutti e tre tifosi alla grande, a buon'azzo. Vediamo, io penso, c'è grande fiducia in tutti, in tutto lo staff, anche noi della palla, nonostante ci siano stati le chiti e poi. Puntella penso che vada bene, per rinnovare un po' bene venga un po' di gioventù. Anche i ragazzi della primavera, insomma, non hanno fatto male, sono andati in finale, io l'ho seguito.